Cosa leggerei con che libro affascini il tuo cuore e se ti perderei nel labirinto di un amaro autore Cosa leggerei con un amaro autore Cosa leggerei con un amaro autore Telefonerai probabilmente a me tuo schiavo d'amore Ti divertirai che traguardi vuoi farmi trovare Cosa leggerei con un amaro autore Cosa leggerei con un amaro autore Cosa leggere Cosa leggerei con un amaro autore Cosa leggerei con un amaro autore Cosa leggere Grazie a tutti Grazie a tutti